Serena? Serena? Buonasera, sono pronta per partire treno, taxi, gommo e soldi in tasca tipico problema di un artista che dimentica la testa egoista ed entusiasta è la pausa che non aspetta vita d'artista artista che non può organizzare una vacanza un artista sempre di corsa, di fretta, che ansia un artista esibizionista, dentista artista artista in un'altra dimensione ha bisogno di mangiare di dormire e far l'amore mh vuole calmo l'attenzione è felice della vita non cade in depressione tocca al fondo bui e troppo non si accetta non ci piace ciò che ha scritto non mi basta tipico problema di un artista che si riprende in freccia già fai e si da e scrive una canzone vita d'artista artista che non porta a iniziare una vacanza un artista se vede corsa, di fretta, che ansia un artista esibizionista artista vita d'artista vita d'artista con una musica in presa un artista 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 non 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 Grazie.